Le 840, questo brano su Radio DJ vuol dire una cosa sola, la festa dei 30 anni del 2012, meraviglia C'è già una data, c'è già una data, c'è già una data Allora, ho sentito Linus parlare di un'eventuale data, ma deve smarcarsi dalla finale Europa League e dalla finale di Champions League, visto che siamo rimasti scottati dall'anno scorso Leggermette scottati Che giocano pure quella di sabato pare Facciamo una proposta, quest'anno festa la mattina, l'abbiamo fatta il pomeriggio, l'abbiamo fatta la sera La mattina è tutta come I benbeni possono venire, alle 11, all'una siamo tutti con le gambe sotto il tavolo, pennichella Un sogno, un sogno Una pennichella di 10.000 persone Una grandissima colazione Su le mani per la mozione triomedusa, per favore, mozione approvata Attenzione, mattinè, non che si fa l'after No, no, mattinè alle 11 perché a colazione si fa il bisognone poi se no lì denti lavati a scendere a luna tutti tutti i soldi ma è lunedì oggi c'è questa posmena da venerdì quindi invece travisate che potete segnalare a.prevignanochioccioladj.it partiamo da Dario Harry Styles from the dining table suona al cellulare risponde Harry Styles ciao Harry dice Dwayne The Rock Johnson come Styles ciao a tutti a domani sta per cadere la linea cazzo bellissima battuta vabbè dimmi che c'è niente volevo farti visita per farti vedere le diapositive delle mie vacanze a Pyongyang soltanto che non si può fotografare niente quindi solo la statua di Kim Jong-un 233 volte che faccio? passo? no guarda sono nel deserto dei Tanami in Australia mi sono perso non so dove sono ma se ti vedo che stai sul balcone con le mutande a saccocetta salgo? Harry? Harry Styles mette giù ma con chi stavi parlando? chiede Taylor Russell la fidanzata di Harry Styles con The Rock senti affacciati e dimmi una cosa che cosa? Harry Styles dice sotto voce oh capellone è di sotto o no? oh capellone in this hotel room sta ancora sotto perché colore è di sotto anche quindi calvo shaming calvo shaming lo faccio io però è fatto non calvin è un capellone in this hotel room è un capellone è un capellone è un capellone è un capellone poi Mickey Dude Crumbsuckers Just Sit There ma no ma peccato troppo 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 tutto l'album Dave Brady di Crumbsucker fa lo splendido sabato mattina al bar di Montelupone con gli amici stasera sono uscito ieri sera sono uscito con Jennifer Lawrence ma l'ho trovata così noiosa con la scusa che dovevo suonare con i Queen l'ho lasciata nella hall del Burial Arab Jumeirah i Sette Stelle di Dubai che io frequento che poi non me la sentivo di cantare con i Queen allora loro hanno disdetto il concerto ma chi è? per bomba ma se stavi a fare la spesa grossa dei detersivi a Roma Est con tu moglie ma stanzito guarda mi hai scambiato per qualcun altro perché per rilassarmi ieri ho fatto quattro colpi con Sinner ma se stava giocando la Dave ma che cazzo stai da quando l'ho battuto su tre set senza manco concedergli un quindici si è ritirato ma in che senso ritirato chiedono gli amici e Brady risponde Sinner ormai non gioca neanche a squash con cosa chiudiamo Irene Dallariano James Blunt beside you sabato mattina sabato mattina ora dell'aperitivo al bar di Montelupone Dave Brady dei Cramsuckers fa lo splendido stasera sono uscito con Natalie Portman ma l'ho trovata così noiosa che l'ho lasciata dovevo suonare con i police che poi non me la sentivo di suonare con i police allora hanno disdetto la buia caro caccia palle James Blunt ma se ieri stavi da Sergio nel benzinaio a lavare la Mondeo a mano mi hai scambiato per qualcun altro perché per rilassarmi stavo facendo quattro colpi ma va conoscendo già la storia dello squash di James Blunt e di tutto il resto James Blunt lo zittisce dicendo non gominciare non gominciare non gominciare non gominciare non gominciare macerata macerata no martufello non gominciare molto bella previ torniamo con Credence Clearwater Revival wow classico wow blu ghiaccio travolgente Tommaso Paraviso alle 849 in questo momento in chiamata a Roma a Triuno Triuno con il Triunio Medusa con le travisate siamo qui tutti ad aspettare Clearwater giusto previ invece lo sostituiamo all'ultimo secondo e ora con Nicky Genesis no Nicky Genesis Nicky Genesis è Nicky Genesis è arrivato l'entusiasmo è questa è questa ok Roberto Danettuno Nicky Genesis Funky Soul Funky Soul con un campione che riconoscerete James Brown fa il bidello al liceo coreutico Snoop Doggy Dog all'interno del plesso Barry White dalla quinta B arrivano rumori indescrivibili quando arriva nell'aula il caos è incontenibile Jimi Hendrix da fuoco a chitarra Ozzy morde il pipistrello Kit Moon butta un banco fuori la finestra Chris Martin si lancia da 15 metri in una tinozza Kit Richards inala le ceneri del padre Luridu una cinghia di farabutta Sid Vicious batte delle cragnate e Brian Nino ruba i portafogli a tutti approfittando dello sconfitto un allibito James Brown non può che chiedere ma che manca il professor? è bellissimo ma molto bella bellissima bidello è bidello è bidello è bidello detto da James Brown attenzione va il bidello e poi chiudiamo con Max Giorgi lo Squatess di Sinaloa e il Rolex è andata bene che siamo lunghi si apriva uno speciale Cariquates Cariquates la strategia per i prossimi concerti è chiara spiega Luciano Cianosa dovete parlare del vostro poco edificante passato di ladri di cerchioni sul lungomare di Topolo Bampo Spacciatori di Rolex tra l'altro ma perché rivangare dei così infausti vissuti sul crinale tra legalità e illegalità chiede Gabriel Berelesa dei Quatos di Sinaloa perché la gente vuole la verità e vuole la trasparenza mi rifiuto dei video di te che freghi il portafogli a Ismael Zambada García il potentissimo capo cartello di Sinaloa ok accetto al primo concerto in un impito di onestà Berelesa ammette me gusta ciullar la gente me gusta aiutare la gente me gusta però sincerità però onestà onestà onesto onesto me gusta aiutare la gente contento contento è felice bellissimo chiacca le trombe grazie a Previ grazie a Patrizio grazie a Stella grazie a Veronica grazie naturalmente a Cassimone che è stata a Milano vi ricordo rapidamente dalle 20 e 20 inizia la Corsi Night sul 9 c'è Don't Forget The Lyrics e il contadino cerca moglie ultima settimana di Don't Forget The Lyrics ragazzi poi venerdì c'è la finalissima il torneo dei campioni ma c'è ancora la super campionessa sì stasera c'è ancora chi lo sa chi lo sa stasera dico incredibile veramente pazzesca grazie da parte di Giorgio Gabriele e Furio Dina Milano ciao a tutti a domani ciao ae 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 o senti che grinta che sarei contro il menù da su dj ae 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 o trague gas trague gas a Sonsoni ae ae ae